Saluto tutti i presenti per questa cerimonia a mezzo della quale la civica amministrazione e il centro operativo comunale vogliono ringraziare tutte le associazioni che hanno dato un loro prezioso contributo durante il periodo del lockdown grazie alla loro opera grazie alla abnegazione che si sono ottenuti dei risultati molto importanti soprattutto in favore delle persone più deboli e delle persone più esposte procederemo quindi a dare un riconoscimento simbolico certamente ma particolarmente sentito a quanti si sono prodigati e poi via via anche tutti gli altri settori che hanno collaborato con le politiche sociali per far sì che quel periodo risultasse il meno gravoso possibile abbiamo fatto la nostra parte insieme a noi una grande parte l'hanno fatto le associazioni Radio Club San Severo un applauso Croce Rossa Italiana Comitato San Severo Torre Maggiore la Guardia Costiera Auxiliaria Puglia Comitato San Severo Torre Maggiore Congeab Aeop Era Ambiente Alteas Unitasi Un grande grandissimo applauso a queste otte associazioni un applauso corale da parte di tutta la piazza che si unisce a un grazie sentito e sincero del vostro sindaco senza di voi probabilmente la macchina sarebbe andata più lenta avrebbe funzionato non bene come ha funzionato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti